E' nell'ex centro oncologico di Arezzo l'ambulatorio per i migranti che arrivano nel territorio della provincia. Un primo step sanitario importantissimo prima di essere destinati ai centri cosiddetti di seconda accoglienza. Dottoressa, che risposta si dà con questo ambulatorio? Si dà una grande e bella risposta, non solo sul piano che era quello fondamentale sanitario, ma una risposta intanto di grande professionalità e di grande sensibilità da parte di chi, personale sanitario in primo luogo, ha voluto affrontare questo impegno straordinario perché è un impegno che va bene, e questo ce ne rendiamo conto, ben al di là delle competenze professionali e anche delle competenze lavorative. Quanti sono i migranti attualmente presenti? Attualmente sono 540, con qualche arrivo anche nelle prossime ore. Sono distribuiti su una sessantina di strutture, quindi come ho detto anche altre volte, questo conferma che attualmente il sistema dell'accoglienza diffusa in provincia sta continuando ad andare avanti. Oltre 100 i migranti che sono già stati visitati, tra cui anche donne e bimbi in tenera età. Sono persone più che altro giovani e quindi di sana costituzione e in buona salute. Sono provati, provati, per esempio negli ultimi casi abbiamo avuto soggetti che avevano ustioni su varie parti del corpo perché viaggiano appunto in condizioni molto precarie su queste imbarcazioni che spesso tra l'altro poi danno anche luogo a tragici incidenti. Quindi malattie infettive che poi è lo scopo principale, quello di individuare eventuali patologie infettive contagiose, negli ultimi arrivi non ne abbiamo avuto alcune. In passato i casi che possiamo ascrivere a malattie effettive sono casi di scabbia. In passato abbiamo avuto due casi di tubercolosi che sono stati per fortuna prontamente accertati, quindi valutati anche poi tutti i soggetti a cui hanno avuto contatto. Però ecco, non è che una prevalenza di malattie infettive è superiore a quella che è la media dei soggetti che già vivono nel nostro paese.